Buonasera ragazzi, oggi vi insegno a riconoscere uno stilamento da una contrattura, una lesione muscolare dalla contrattura muscolare. Sono due cose opposte, in una abbiamo il muscolo che rimane contratto e nell'altro abbiamo un muscolo che subisce una lesione. La grande differenza è come inizia, la contrattura muscolare comincia con un dolore crescente durante l'allenamento o dopo l'allenamento che poi va a dare una sensazione tipo crampo, cioè il muscolo ornido che non si riesce a stendere. La lesione muscolare inizia con una fitta, quando c'è una fitta lì 99% c'è una lesione muscolare. Cosa bisogna fare? Fermarsi e andare dallo specialista di competenza, farglielo vedere ed eventualmente a mio modo di vedere necessariamente fare un'ecografia per vedere la dimensione della lesione muscolare e su questa base qua decidere che tipo di processo terapeutico e piano terapeutico instaurare per uscire il più velocemente possibile dalla lesione.